Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su una nuova video di Fortnite! Avete appena completato tutte le sfide e sbloccato questa bellissima schermata di caricamento. Quindi adesso il gioco vi permette di vedere e di raccogliere una lettera, in particolare la R di Fortnite. Se andiamo a zoomare questa schermata di caricamento, raga, vediamo che la R si troverà proprio sotto il tubo di scarico di pantano palpitante. Quindi ci richiamo nella stessa zona in questione, raga, e andiamo a raccogliere la nostra R. Che in questo caso io non potrò farlo perché sto registrando questo video ancora prima che la sfida esca. Comunque, raga, guardando la schermata, la R dovrebbe trovarsi proprio qui. Ed esattamente, è proprio così, raga, è qui. Quindi guardando subito la schermata e guardando dove mi trovo, raga, non dovremmo sbagliare, siamo nel posto giusto. Comunque sia, apriamo la mappa, raga, ci troviamo proprio a sud-ovest. Vi vado a pinere la zona, la R si troverà qui. Io spero di esservi stato d'aiuto, raga, se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like, condividete il video con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Noi ci becchiamo in una prossima video guida oppure in live. Un salutone da Martix. SIA PRADERS!